ragazzi auguri buon anno a tutti gli interisti e a tutti quelli che vogliono bene all'inter io sono disposto a fare finta di nulla fino ad un certo punto perché ragazzi permettetemi dichiarire un punto la mia povera madre te te guarda per colpa di 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 un disagiato cosa mi tocca dire su youtube ma mi voglio superare ognuno di noi può superare i propri limiti mia madre era del vomero l'attiva del vomero poi dopo per un periodo di di tempo abitato anche a posillipo quando la ragazza la sua famiglia si spostò dal vomero a posillipo quindi io diciamo ho madre del sud e padre toscano io non ho mai detto nulla su quelli del sud anche perché io quelli del sud li adoro come adoro tutte le persone corrette e non e non i disagiati a cui andrebbe staccato internet perché ora basta il problema sai vuole che questi disagiati hanno fatto due visual attaccando me per te penso mi sono messi quelle quattro visual che si sono costruite le hanno fatto attaccando me quando poi spacciano per specialisti del calcio mercato i propri parenti capito mercoledì 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 tre gennaio live con effenberg live sul bilancio live sui reali conti ed io ad oggi posso tranquillamente dimostrare e lo dimostreremo mercoledì che ad oggi non c'è stato nessun passaggio di azioni ad oggi l'inter è totalmente cinese stime zangio sempre in carica addirittura qualcuno mi ha scritto eh con la faccia dell'omino che vomita da quanto ride che dovrebbe risultare stime zangio sulla visura camerale queste sono persone che non sanno nulla ad oggi l'inter è tutta cinese i pegni sono sempre lì octrino è stata liquidata e chi vi dice che è stato fatto il passaggio di vuote vi dice una grandissima cazzata ma a mercoledì ve lo dimostra effenberg di quello che comunque viene così eh buttato su youtube per qualche decina di euro perché io fino a prova contraria non vado a chiedere le lemosina come te ma ora mi vuoi far passare per razzista a me che c'ho la mamma che avevo la mia povera mamma del sud vedi il problema è che quando ragazzi mi dispiace incominciare l'anno così però hanno stanno offendendo mia madre perché dicendo che io tra l'altro Nino Nino Melodia mi ha mandato un vocale dove mi dice scome quello è un ometto piccolo così Nino Melodia se avessi i coglioni direbbe che mi ha detto Giuseppe non mi hai detto nulla contro quel del sud se l'ha inventato lui allora Nino Melodia dille queste cose perché se no mi toccherà far ascoltare il tuo vocale e poi già ormai siete alla frutta perché non vi rende più nessuno passaggio vuote non esiste non c'è nessun passaggio vuote ed io lo posso dimostrare ma qualsiasi tifoso dell'Inter può vedere che non c'è stato nessun passaggio di vuote farmi passare per quello che appa cioè questa è già allora quello lì si ha fatto si ha fatto un po' di strada su YouTube perché ha attaccato me e si è fatto chiudere il canale poi ha trovato una brava persona come me che lo ha graziato altrimenti quello era già rovinato a quello lì gli ha salvato il culo suo padre perché quello poi va a piangere dal papà a 40 anni ora però te mi hai stancato dice smettiamo di fare dissing e continuano a rompere i coglioni io arrivo fino in fondo con te ti richiudo il canale un'altra volta perché ci sei vicino continua continua fino a prova contraria sei te che chiedi le lemosia non sono io io lavoro a differenza tua non lavoro tre mesi in anno farmi passare per razzista a me quando io la mamma di Napoli la nonna o la nonna ancora nel Vomero che abita nel Vomero le zie cucini anche se non ci va ci vado una volta all'anno ma 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 di cosa stai ragionando te come mi chiami a me con costo 10 te sei te sei Giuseppe 71 sei lo sai benissimo cosa vuol dire il numero 71 perché te quelle poche cose hai fatto su YouTube le hai fatte in maniera sporca muovendoti in maniera totalmente sporca ma ormai la gente l'ha capita perché sei rimasto solo e te solo l'unica cosa che puoi fare 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 i balletti in mutande perché ora la gente l'ha capito che spari le cazzate ti inventi le cose perché poi chiedi scusa e ammetti e ti inventi le cose da Alessandro G quando chiamassi truffatore hai rotto da quello gli hai detto e si droga occhio a quello gli hai detto e si droga perché quello fa tutto all'inforio che drogarsi cioè te sei uno che vive nella menzogna e che e che ad oggi ha avuto la fortuna ancora di non essere veramente cioè veramente portato in tribunale perché ti alla fine verrai portato in tribunale e poi tuo padre non ti salverà ti toccherà andare a lavorare ma ma non lavorare tra i bensilano toccherà trovarti un lavoro serio alla fine hai aprito 71 te sei Giuseppe 71 hai costruito un canale sulla menzogna stai crollando sei finito non esiste nessun passaggio vuoto è mercoledì con effermi che te lo faremo vedere che non esiste nessun passaggio vuoto passiamo al calcio Sanabria dice smettiamo i disti che continua a rompere i coglioni staccate gli internet in quella cameretta fa danni io parlo al padre togliete gli internet a quello lì quello fa solo danni è ridicolo ormai è diventato ridicolo ho sentito un nome che mi piace molto Sanabria Sanabria secondo me sarebbe un'ottima quarta punta un metro e ottantuno settanta chili giocatore comunque di personalità che ha sempre un peso forma diciamo ben definito quindi è un fisico molto eh cioè diciamo ha un fisico sempre performante è un fisico adatto per giocare a calcio abbina tecnica a qualità tattiche alla velocità a me Sanabria un calciatore mi piace tanto anche perché tutti gli anni parte come riserva e poi alla fine gioca sempre titolare non è un cecchino ma fa comunque diversi golle ha comunque una velocità di esecuzione che a me piace come giocatore ti dico la verità e perché Sanabria sarebbe ottimo come terza punta non quarta terza quarta punta perché se dietro a una squadra che gioa per esempio che sviluppa tantissime occasioni da gol come l'inter lui è perfetto lì davanti è parruaiano quindi anche uno insomma che viene da una terra particolare è uno che c'ha garra è uno che ha carattere a me piace Sanabria lo prenderei volentilissimo quindi eh come terza quarta punta per me potrebbe essere un nome interessantissimo e lo vedo molto e lo vedo superiore a Taremi tutto per tutto ma al cento per cento per me a parte conosce il campionato italiano ma per me Sanabria è superiore a Taremi quindi eh io non lo so poi se c'è una trattativa eh a che livello è la trattativa qualora ci fosse una trattativa io ho sentito fare questo nome per me Sanabria sarebbe ottimo all'inter ci saluto di saluto ragazzi magari ci sentiamo più tardi ciao mercoledì sera live a meno chiudiamo tutta sta storia live con Effenberg ventuno e trenta ventidue poi dopo vediamo l'orario ciao ciao Peter ciao Grazie.